Ho partito quasi dall'era nostra e quando ho visto Mitrita ha preso la palla, sono andato subito in profondità e mi ha dato la palla. Dopo sono rimasto lì davanti al portiere e prima ho pensato a fare un tiro al giro, metterla contro un palo, ma dopo mi è rimasto quello e è andato benissimo. Il playoff è stato il miglior momento dell'anno, penso che quelle 4-5 partite che ho fatto benissimo mi hanno spinto tanto e quest'anno ho cominciato non molto bene, dopo ho passato un paio di partite in manchina, ho avuto l'infortunio e adesso penso che sta andando benissimo. Adesso abbiamo due partite molto difficili contro due squadre che hanno bisogno di punti, ma il nostro obiettivo è andare a vincere a tutti i campi della Serie B. Poi se non si può vincere, trovare anche un parecchio è molto importante. Il nostro obiettivo è andare in Serie A, non abbiamo potuto andare direttamente dai primi due, ma adesso siamo lì e speriamo di arrivare al terzo posto, così saltiamo il primo turno e abbiamo un po' di tempo da riposare perché è stato un campionato molto lungo. Il mio cartellino è di La Sampdoria, ma solo penso al presente, il mio presente è dare tutto per il Pescara, per la gente di Pescara che mi ha accolto benissimo in questi tre anni. E niente, solo voglio andare in Serie A, dopo si vedrà che succederà l'anno prossimo. Grazie.